Anticipazioni una vita. Anticipazioni fino al 24 maggio Milagros ritorna. Anticipazioni una vita puntate italiane Milagros ritorna dopo dieci anni. La figlia di Trini e Ramon riabbraccerà suo padre. Ramon Palasios uscito dal carcere dopo dieci anni accusato giustamente per la morte di Silvia è riuscita ad incontrare Milagros ma fin da subito il rapporto tra padre e figlia sarà ostacolato da Carmen. Con il passare delle puntate Ramon riuscirà a superare il lutto per la morte di Trini e si avvicinerà sempre di più a Carmen. Nel frattempo arriverà un telegramma dove Milagros portata a Parigi da sua sorella Maria Luisa e suo cognato Victor quando ancora era in fasce arriverà a casa. Durante questo emozionante incontro Ramon però pare non riconoscere sua figlia e per questo Milagros dimostrerà in tutti i modi di non andare d'accordo con Carmen la nuova compagna del padre. L'ex cameriera però cercherà in tutti i modi di conquistare le sue simpatie e di andarci d'accordo mentre Ramon proverà anch'esso in tutti i modi di recuperare il rapporto perduto con la figlia. Nel frattempo ad Acacias 38 succederanno altri colpi di scena. Agostina non svelerà nessuno la sua malattia mentre Hinoheva sarà sempre più vendicativa. Ma ragazzi io non voglio svelarvi oltre. Voi continuate a seguirmi per non perdervi nessun'altra anticipazione di una vita. Nel frattempo vi auguro buon primo maggio a tutti da Angela da tutto dal web.